Ciao a tutti e a tutte dal vostro Andrea Cartotto. Mi avete chiesto di consigliarvi una app indicata o una soluzione indicata per avviare i più piccoli ad attività di coding e ad un buon approccio STEM anche senza robot piccoli medio grandi. Ebbene la soluzione c'è. Non è questa volta il linguaggio di programmazione a blocchi scratch ma è proprio Coding Skills. Una app per Android gratuita carinissima che vi consiglio. La scarichiamo e la scaricate su smartphone, tablet, anche sulle digital boards quindi sui monitors interattivi che abbiamo nelle classi a patto che siano veri monitor interattivi Android e che quindi abbiano il Play Store o comunque la possibilità di utilizzare apps Android. Il principio ispiratore è quello della gamification. Ciò significa che questa app prevede livelli, livelli calibrati per complessità che partiamo da divertenti percorsi da comporre e completare fino a loop, vedete livello 3 le ripetizioni o a movimenti più complessi da assemblare che prendono appunto il nome di funzioni. Partiamo dal livello 1. Un tocco sul mio dispositivo touch e sì mi avete scoperto, mi sono divertito anch'io e infatti nella prima tessera vedete 8 su 10 perché 8 sono i livelli che già ho completato per cui vado dritto nel pentolone dove invece ne ho completati solo 5. Tocco una volta, tocco ancora un'altra volta ed ecco qui i livelli liberi e i livelli da sbloccare con lucchetto. Guardate ora sembra che io mi metta le dita negli occhi ma in realtà questo effetto che ho creato è perché ho dovuto trascinare il mio faccione lontano perché appena toccherò il numero 5 vedrete come si dispongono le tessere e come sia semplice per i nostri bambini e per le nostre bambine disporre all'interno delle giuste caselle le tessere corrette perché se io sbaglio sì la tessera si compone ma non otterrò il risultato previsto quindi debbo riprendere la tessera toglierla un piccolo puzzle in chiave stem e poi applico il pensiero computazionale perché ricordate che coding significa ragionamento coordinazione oculo manuale orientarsi nello spazio nel tempo e attuare il problem solving quindi risolvere piccole problematiche è sbagliando che si impara e si fa coding pertanto ora abbiamo sbagliato cerchiamo però di non sbagliare più facciamo scorrere il nostro liquido fino al pentolone ricomponiamo vedete sto trascinando le tessere poi vediamo un po' qui che cosa ci vorrà proviamo ad andare ancora dritti curviamo risaliamo ci colleghiamo e se abbiamo fatto bene il rinforzo delle competenze la gratificazione meccanismo tipico della gamification bravo molto bene stai andando alla grande fantastico freccia verde livello successivo pulsante rotondo con sfondo arancione ricomincio il livello tutti i livelli anche completati sono rigiocabili di fatto coding skills quindi è praticabile pressoché all'infinito ecco vi mostro volentieri che non ci sono trucchi non ci sono pericoli può apparire talvolta qualche pubblicità di questo tipo che si chiude immediatamente toccando la x in alto a destra applicazione free neppure freemium che essendo gratuita nessun mistero ci mostrerà qualche inserzione random cioè proposta con casualità ebbene ora a voi colleghi e colleghe divertirvi perché lo so lo so che vi divertirete ma potremo proporre in sicurezza questa app ai nostri alunni e alle nostre alunne anche come supporto per i colleghi e le colleghe di sostegno perché è talmente semplice priva di pericoli che tramite uno schermo touch l'azione di spostare le tessere permetterà anche ad alunni con bisogni educativi specifici o handicap di concentrarsi e provare dunque a risolvere piccoli enigmi è tutto dal vostro andrea cartotto e appuntamento sindora al prossimo video corso ciao